Grazie 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 Sivas 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 K��고 Sivas Sivas per Istanbul e ho passato per Istanbul si, è facile facile per Istanbul e poi per Istanbul ma tu hai un aeroporto e? Edirne c'è un balkanico c'è un balkanico per cosa? per balkanico magari, sì non ricordo l'applicazione è buono perché questo mi piace il mio lavoro è molto difficile e qualcuno dice qualcosa e ci devi fare ma l'applicazione è facile l'applicazione e lavorare gli studenti e quando dicono quando dicono si, i loro hanno fatto l'applicazione 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 le persone le persone le persone le persone che le persone l'applicazione 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 della Civazzak l'applicazione l'applicazione ma qui c'è la storia, solo per noi